Sono 13.500 le persone che vivono nel Sondriese con Ise sotto i 6.000 euro annui, un residente su quattro. Circa 3.000 i cittadini scivolati nella fascia di povertà. Dati che sono stati diffusi nella sede del BIM dell'Anda durante la presentazione, i risultati raggiunti dal progetto più segni positivi. Ormai va a concludersi il progetto più 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 che era stato finanziato negli anni passati sul bando UEFA in azione nel 2014 per un milione di euro da parte di Fondazione Cariplo. Va a compimento, va a termine, ma non vogliamo finire, vogliamo andare avanti. Bando Doniamo Energia 2018 seconda edizione, Fondazione Cariplo insieme con il Banco dell'Energia ONLUS e A2A ha fatto la sua parte, altri 90.000 euro per sostenere le fragilità. Ho dato proprio l'annuncio questa mattina, l'abbiamo deliberato in consiglio di amministrazione della Fondazione Cariplo la settimana scorsa. Vogliamo andare avanti a sostenere i progetti perché ci sono le associazioni che fanno del bene, operano bene sul territorio e quindi è giusto che anche noi come Fondazione Cariplo facciamo la nostra parte. 737 i beneficiari di Emporion, 150 le famiglie che hanno usufruito dello scaffale relazionale. Da poco attivo anche Emporion per gli anziani, ha spiegato Gabriele Bertazzini, vicepresidente del CSV Monza Lecosondrio. Sono azioni che vanno sia dal sostegno materiale, pensiamo a Emporion, in cui vengono erogate delle genere di prima sussistenza, avere i propri progetti di inserimento lavorativo quindi che hanno una finalità di recupero sociale e di aiuto per le persone in stato di svantaggio di recuperare un'autonomia lavorativa e quindi sociale. 20 le persone coinvolte nell'azione Cantieri, ha spiegato Gianfranco De Campo, direttore della cooperativa Intrecci. Abbiamo potuto far fronte in questo modo alla manutenzione di sentieri, oltre 140 km in tutto il territorio della comunità montana, grazie alla collaborazione con i comuni. È stata la parte del progetto PPP che la comunità montana ha voluto seguire in prima persona perché in questo caso si faceva fronte all'emergenza sociale e noi abbiamo fatto fronte a un'emergenza territoriale che è proprio quella dell'assenza di manutenzione dei territori alti. Per questo Natale Più Segni Positivi sostiene la riqualificazione del territorio valterinese. Vediamo nelle tue mani un vasetto, qual è il suo significato e soprattutto il suo obiettivo. Allora, l'obiettivo è quello di sostenere il progetto più segni positivi. Con una donazione di 10 euro si contribuisce a recuperare un metro quadro di territorio abbandonato, un metro quadro della nostra terra abbandonata che viene recuperata grazie alle attività del progetto che danno lavoro a persone sopra i 40 anni che il lavoro l'hanno perso.